Pallavolo 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 andiamo là, cerchiamo di fare la nostra partita abbiamo il vantaggio di essere in vantaggio sulla serie però è una squadra che non smette di giocare anche il quarto set su 7 a 2 per noi ancora giocavano è una squadra e sarà una serie, una partita che finché non casca l'ultimo pallone nulla sarà deciso questa è una serie di playoff una serie di semifinale incredibile io mi sto divertendo un sacco ci sono degli errori, tutto quello che volete ma è veramente bello il fattore campo nei playoff è fondamentale certo uno non può aspettare solo di giocare le partite in casa noi dobbiamo cercare di andare lì e vincere sarà difficile perché naturalmente per loro se perdono sono fuori, il palazzetto sarà ancora più caldo di qualche giorno fa e niente noi dobbiamo essere un po' più continui se vogliamo provare a batterli e sempre per i volley tempo invece di festeggiamenti per la Bartoccini Perugia che dopo aver conquistato la promozione diretta in serie A1 femminile organizza una grande festa con rinfresco sabato 27 aprile alle 18.30 al Palabarton di Perugia parteciperanno oltretutto lo staff dirigenziale tecnico alla squadra perugina, il presidente della lega di pallavolo di serie A femminile Mauro Fabris che premierà la squadra che premierà la squadra Giuseppe Lomurno e Luigi Tardioli presidente regionale FIPAV il primo e presidente del comitato territoriale Umbria 2 il secondo Domenico Ignozza presidente del CONI Umbria Andrea Romizzi sindaco di Perugia e Clara Pastorelli consigliere del comune perugino con delega allo sport ma soprattutto l'invito è rivolto a tutti i tifosi di pallavolo del capoluogo e siamo al calcio con il Gubbio che prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica a Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto valido per la penultima giornata di campionato contro la squadra dell'ex Giuseppe Maggi con tre punti di ritardo dai playoff ma anche tre punti soli di vantaggio dalla linea play out serve fare risultato per la formazione di Galderisi per salvarsi intanto senza dover arrivare agli ultimi 90 minuti ma anche per coltivare le residue speranze di accedere ai playoff la gara è stata affidata alla direzione di Colombo di Como si gioca invece domani 25 aprile alle 15 la 29esima e ultima giornata di campionato in eccellenza pronto a festeggiare il ritorno in serie di Il Foligno atteso al campo neutro di Delluzzi di Gualdo Tadino location scelta dal comitato regionale Umbro su indicazione della questura per motivi di ordine pubblico per giocare contro il Sanzisto tutto questo in quanto l'impianto di Sanzisto non era considerato idoneo per l'occasione basta un solo punto per i falchetti senza pensare poi a ciò che farà il lama sul campo della Sisi Subasio interessante anche il duello salvezza tra Massa Martana e Dellera l'Angelana riceve l'Orvietana mentre la Ponte Vecchio in pieno caos societario attende il Castel del Piano e passiamo ora al calcio a 5 perché si è disputata nel giorno di Pasquetta la seconda edizione del torneo di Fuzz al Città di Gubbio dedicato alla categoria Under 15 che ha visto un significativo seguito di pubblico all'evento vediamo una Pasquetta nel segno della partecipazione del divertimento e soprattutto con tanto calcio a 5 di qualità e grande prospettiva in archivio la seconda edizione del torno giovanile di Fuzz al Under 15 Città di Gubbio giocato il lunedì dell'Angelo tra la palestra del CVA di San Marco e la palestra polivalente dove si sono svolte le finali. La manifestazione ha avuto il suo Deus Ex Machina organizzativo nell'S di Fontanelle assieme al coordinamento del tecnico dell'Eta Betafano società di serebbi nazionale nonché selezionatore della rappresentativa regionale Umbra Federico Mariotti. Sei le squadre partecipanti Lazio, Marotta Mondolfo, Rearrieti, Scintilla Pisa oltre alla rappresentativa regionale Umbra guidata proprio da Mariotti assieme a Giorgio Butò e alla formazione di casa bianco-azzurra trainata da Leonardo Argentina nella finalissima a trionfare sono stati i Toscani di Scintilla Pisa capace di battere i campioni uscenti della Lazio e Rigori nell'ennesima trasposizione sportiva di Davide che stende Golia. La vittoria più bella per la macchina organizzatrice è insita però nella grande partecipazione di pubblico che ha accompagnato tutta la giornata di partite rendendo così l'evento ancor più suggestivo e affascinante. Torneo di Gubbio è stato come al solito una riuscita eccezionale devo dire che come dicevo prima la società Fontanelle non è mai facile ho fatto un plauso perché non è mai facile organizzare un evento una manifestazione del genere e mettere insieme in un giorno festivo come quello di oggi di Pasquetta alcune realtà tra l'altro di quattro regioni perché oltre l'Umbria c'erano anche Marche Toscana Lazio con una qualità devo dire vista in campo tra l'altro veramente veramente invidiabile non è mai facile quindi un complimento particolare lo faccio alla società Fontanelle che sta dedicando grandissima molta passione molti sacrifici un impegno veramente consistente a 360 gradi nel nel futsal regionale. La Kermess si è poi conclusa con un bel momento conviviale negli impianti del Marco Minelli di Fontanelle e dopo le tante emozioni vissute dal mattino fino a sera la società bianco azzurra ha dato appuntamento al prossimo anno per un'altra edizione di una manifestazione destinata ad entrare nella tradizione sportiva cittadina capace di portare sotto i cinque colli società blasonate ma soprattutto un seguito massiccio di persone che possono ammirare le meraviglie di Gubbio che si conferma così un vero e proprio punto di riferimento per il futsal regionale. Non c'è da dimenticare che in una città come questa nel territorio gubbino devono fare i complimenti anche alle altre realtà locali che ben si stanno come dire organizzando e stanno ben gestendo diciamo il futsal nell'ambito regionale. Devo ovviamente citare l'atletico Gubbio che è una società anch'essa diciamo come il Fontanelle che è una scuola calcio che si sta ben destrecando nella doppia attività e quindi anche per cui non ci dobbiamo dimenticare questa questa loro espansione quindi complimenti sia al Fontanelle ma devo dire che questo torneo è stata una riuscita a dimostrazione dello sviluppo del futsal nell'ambito regionale da parte del territorio eugubino. E chiudiamo ricordandovi l'appuntamento di questa sera alle 23 con sport e incontri calcio in primo piano con uno sguardo al campionato dilettantistici Umbri con la conduzione di Giuseppe Martini. È tutto per stasera ritroverete ovviamente questo appuntamento in replica intorno alla mezzanotte e 30 e ovviamente domani sul sito trgmedia.it. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.